Anche questa settimana notiamo una lieve flessione nel tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese e l'incidenza si fissa intorno a 207 casi per 100.000 abitanti. L'RT ha anche, mostra una tendenza alla flessione, siamo ormai a 0,82, quindi ben al di sotto dell'unità. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva, siamo rispettivamente al 7,1% e al 2,3%, per cui notiamo una tendenza alla decongestione delle strutture ospedaliere e questo è sicuramente un dato positivo. Dobbiamo comunque continuare a mantenere dei comportamenti prudenti e soprattutto rafforzare il monitoraggio dell'andamento dell'epidemia con un occhio vigile a ciò che accade in altri Paesi in modo da poter intervenire tempestivamente qualora fosse necessario.